Profeta Ho letto che Abba Cuc, 626, VI secolo a.C., fu l'ottavo dei dodici profeti minori raccolti nella Bibbia ebraica ed è venerato da tutte le chiese che ammettono il culto dei santi. I suoi oracoli e preghiere sono registrati nel libro di Abba Cuc. Anche Abba Cuc appartiene alla leggenda? Commento No, perché ogni leggenda religiosa si annulla come leggenda quando alla parola profeta si sostituiscono le parole strumento tramite mezzo medium.